Il secondo libro che vi faccio vedere è un libro che ho recentemente acquistato, cioè due giorni fa. L'ho finito perché è comunque molto corto, sembrano tante pagine ma alla fine non sono tante. Ed è di una scrittrice non famosa, di una scrittrice italiana che ho conosciuto perché infatti mi ha fatto anche la dedica. È di una scrittrice italiana che ha fatto questo fantasy che si intitola Enemy, tra bene e male. Allora, questo libro qua l'ho letto, ve ne farò una recensione e farò anche la recensione poi a lei e la manderò sul suo sito ufficiale. Comunque ve lo mostro così, l'ho pagato 18 euro questo libro qua. Ed è di Samantha Beatrice Brillante.